La rassegna stampa è stata offerta da I Sapori del Vallo L'arte di fare la pasta www.isaporidelvallo.it Buongiorno, ben ritrovati alla rassegna stampa di questo sabato 20 maggio una rassegna stampa che apriamo leggendo le prime pagine dei quotidiani oggi in edicola e lo facciamo partendo dal mattino di Napoli in primo piano la questione vaccini 12 vaccini obbligatori senza profilassi, niente nidi e materne per i genitori multa e stoppa alla patria potestà il governo vara il decreto nel piano Rosolia, Oreczioni, Morbillo e Meningite verifiche fino a 16 anni convincere i cittadini che la scienza ha ragione il commento di Silvio Garattini il focus siedi dalla A alla Z le istruzioni per l'uso del virologo Tarro per quanto riguarda altri argomenti le interviste del mattino intercettazioni come una tortura cassese, giuste le critiche di Napolitano il giurista il caso Napoli la gente attonita il CSM lascia fare la riforma del processo penale se fallisce è meglio per tutti l'editoriale di Giovanni Verde l'inchiesta di Trapani un Rolex per abbassare l'IVA Vicari indagata e si dimette poi la fotonotizia dedicata al blackout alla stazione di Roma Termini caos frecciarossa per Napoli il blocco della circolazione è durato due ore lisaggi sulla direttrice nord-sud in taglio basso invece si parla dei reali d'Inghilterra i Middleton e l'altre di sposare bene oggi le nozze di Pippa sorella della principessa Kate con il finanziere Matthews per lo sport Polonia il Napoli nega mille i kezzi rischi i caliciatori richiesti per l'Europeo Under 21 stasera intanto al San Paolo arriva la Fiorentina questa è l'apertura del mattino di Napoli noi restiamo sul quotidiano partenopeo andiamo a leggere la pagina dedicata a Salerno e provincia in primo piano il dramma Santese muore la figlia tragico incidente sulla litoranea la 19enne era sullo scooter falciata da un'auto colpo fatale alla testa la disperazione del padre noto imprenditore doveva accadere a me non a Maria Rosaria giustizia uno giudice in più in tribunale ma senza ufficio accade a Salerno non c'era inferiore picchiato in classe a 12 anni scatta la denuncia istruzione crollo iscrizioni 2000 alunni in meno scure sulle maestre infanzi elementari e medi e allarme via 25 classi 60 insegnanti in Epsubero la protesta tagli record SOS provincia stop a strade e scuole in taglio alto invece il lungomare boulevard per unire centro e nuova Salerno il focus mentre per lo sport se vengo eletto addio Salernitano parla Salernitana parla Claudio Lotito Lega B il copatron vuole la presidenza accetterò le quote a mezza Roma deciderà lui cosa fare della società a Perugia intanto Sasso contro il bus terrore tra i giocatori della Salernitana infine in taglio basso si parla della prima al Teatro Verdi Rosa in costiera un Don Pasquale in crescendo questa è l'apertura del mattino dedicata a Salerno ora andiamo a leggere invece la prima pagina di le cronache del Salernitano in primo piano maledizione sui Santese tragedia a Battipaglia Maria Rosaria 19 anni muore in un incidente stradale schiantandosi contro un'auto figlia di Renato la nipote di Don Ciccio si stava recando da un'amica oggi i funerari infame processo con Moreno De Simone Stefano Palatucci e giù botte a Ugo Corsini del giusto si difende nessun rancore a centropagina autoreciclaggio una nuova tegola sull'imprenditore Giovanni Attanasio bloccato dalla procura bonifico da 100.000 euro il denaro era destinato a finanziare un'operazione immobiliare in Estonia per l'accuso si tratta di un versamento di facciata ad uso personale Cava De Tirreni nel centro massaggio i tre indagati verso il processo lo leggiamo mentre a Nocera Inferiore gang di 12 anni terrorizza i compagni di scuola alcuni figli nipoti di politici e professionisti picchiano i coetani dell'Istituto Alpi poi ancora a Pompei bagno di folla da Amitrano si presenta la coalizione Mario Casillo suona la carica questa è l'apertura di le cronache del Salernitano ora andiamo a leggere la prima pagina della città di Salerno anche qui la cronaca in primo piano il SUV schiaccia Rosaria Santese la ragazza figlia dell'imprenditore Renato stava raggiungendo le amiche in scooter il violentissimo impatto a Battipaglia in via Cupa Filette la morte è stata istantanea dopo l'aggressione alla stazione l'incubo del terrorismo a Milano politica favori e regali è arrestato un candidato indagati Crocetta e la Vicari poi ancora Ruggi Cantone tira le somme ecco ciò che ho fatto mentre domani a Pedalando Raffaele e Labici di 95 anni di Allunghi protestano gli addetti all'ufficio scolastico assalto ingestibile mentre per quanto riguarda provincia e regione dipendenti in cerca di datore di lavoro infine io condannata senza vera colpa Franca Principe preside a Sapri la mia storia può ripetersi lettera al Ministero della Pubblica Istruzione per la medicina cardiologia risonanza scoperte Salernitane infine per lo sport Salernitana Pietra colpisce il bus dei Granata arriva una notte di paura questa è la prima pagina della città di Salerno prima di chiudere facciamo il rapido approfondimento su quello che era il tema di primo piano del mattino la questione vaccinazioni c'è l'obbligo a scuola nido e materne 12 quelle richieste varato il decreto multe fino a 7500 euro e perdite della padria potestà lo scontro la Gentiloni e Boschi Gentiloni e Boschi trovano il punto di mediazione tra Fedele e Lorenzin dal prossimo settembre 12 vaccini saranno obbligatori per tutti i ragazzi fino a 16 anni i bambini piccolissimi non vaccinati non potranno essere iscritti agli asili nido e alle materne quelli oltre i 6 anni se non in regola potranno frequentare la scuola ma per le loro famiglie scatteranno multe fino a 7500 euro più o meno questa la situazione 12 vaccini obbligatori le 4 già di fatto erogate a tutti i bambini alle quali si aggiungono anche per torse antimeningite antimeningococco scusate B e C antimorbillo antirosolia antipariotite antivariocelle il vaccino contro l'hemofilus influenze questa la situazione ovviamente ne approfondiremo atto anche nelle prossime edizioni del nostro telegiornale noi intanto ci fermiamo per la prima parte della nostra rassegna stampa ci vediamo tra poco con la seconda parte seconda parte della rassegna stampa di questo sabato 20 maggio una seconda parte che ci porta a leggere ora le pagine interne dei quotidiani oggi in edicola partiamo dalla cronaca e da quello che il caso che abbiamo letto nelle varie prime pagine ovvero la morte di Maria Rosaria Santese a Battipaglia perde la vita si schianta con la moto a soli 19 anni perde la vita Maria Rosaria Santese figlia di Renato in un tragico incidente scontro mortale a Battipaglia oggi i funerali alla chiesa di Santa Maria della Speranza andiamo a leggere una corsa verso casa dell'amica un pomeriggio caldo che annunciava un'estate alle porte la voglia di sentire il vento sulla pelle Maria Rosaria Santese si apprestava a vivere un pomeriggio come tanti con la sua amica di scuola una ennesima tappa da percorrere con il suo motorino un pranzo con il papà Renato e poi di corsa a strudiare un affonato un boato con il motorino di Maria Rosaria che invade l'altra corsia all'altezza di via Cupa Filette 14 nella pressi della Bonduelle mentre sopraggiunge un'auto con la guida una donna non c'è più tempo per Maria Rosaria non c'è nulla da fare aveva 19 anni Maria Rosaria Santese appartenente alla famiglia di Don Cicci il papà è un imprenditore noto nel mondo della tv Battipaglia perde così tragicamente un'altra sua figlia l'incidente è avvenuto intorno alle 15.30 all'unque è stato violentissimo la ragazza è fina sul suolo decedendo sul colpo addirittura l'auto una Volkswagen T1 le ha tranciato la gamba e l'ha trascinata sull'asfalto per molti metri l'imparto è stato fatale per la 19enne oggi si terranno i funerali presso la chiesa di Santa Maria della Speranza per la veglia fune per gli amici e parenti che durerà fino a questo pomeriggio alle 16 quando appunto saranno celebrati i funerali poi viene ricostruita la vita della famiglia è nato il rampolo della dinassi di Don Ciccio in taglio basso invece si parla di altri argomenti di provincia documento contro i tagli del governo approvato l'unanimità e il documento di protesta contro i tagli operati dal governo delle province con la mancanza di tali fondi infatti non sarebbe garantita la sicurezza del normale svolgimento dei servizi di competenza provinciale a rischio inoltre il rispetto dell'equilibrio di bilancio delle province il documento approvato impegno dalla deputazione parlamentare della regione campania a sostenere gli emendamenti presentati per la modifica del decreto 50 del 2017 le modifiche consentirebbero di assicurare i servizi primari quali strade e scuole e di garantire la pubblica sicurezza ai cittadini nell'ipotesi di mancata accoglienza da parte del Parlamento il presidente Canfora ha già dichiarato di adottare misure drastiche quali la ciusura di strade inagibili e di scuole soluzioni che comporterebbero il normale svolgimento che comprometterebbero scusate il normale svolgimento degli esami di maturità Salerno pulita andiamo a leggere internali in agitazione in campo la CGL nel mirino l'agenzia per il lavoro G Group andiamo avanti sempre sulle cronache del Salernitano andiamo sulla pagina di Salerno Sud e provincia si parte da Castellabate via libera la società dei servizi si chiamerà Castellabate servizi SRL capitale interamente pubblico ad Agropoli un alunno investito il conducente però non si ferma sempre ad Agropoli tutto il cilento il lutto piange per la morte di Domenico Chieffalo è venuto a mancare lo studioso che nel corso degli anni è rappresentato un riferimento per tante generazioni che hanno attinto al suo è un lutto non solo per l'Agropoli e per il cilento ma del mondo della cultura stessa che perde uno dei suoi massimi esponenti che ha saputo dare lustro alla terra d'origine aveva 83 anni Capaccio Pestum sorprende i ladri nel giardino ferito alla testa dai malviventi soccorso nella notte dalla moglie un operario di 40 anni ritrovato a terra e sanguinante esce di casa a causa di rumori e viene colpito con una pietra questo è avvenuto nella notte a Capaccio Pestum nel Vallo di Diano invece i sindacati allarmati per gli ospedali del Vallo sollecitati interventi immediati per Polla e Sant'Arsenio qui si riporta infatti quello che è stato il comitato delle sigle sindacali la CGL la UI la CIS la FIA e i rappresentanti del comitato curo che hanno tenuto una assemblea nei giorni scorsi di cui vi ricordiamo vi abbiamo dato conto anche nella giornata di ieri per quanto riguarda i trasporti il ripristino della tratta ferroviaria passerà per la comunità montana il comitato per la reattivazione della Siciliano di Agonego ha inviato l'ennesimo appello alla regione affinché risolva l'annoso di servizio lasciamo la pagina di Le Cronache e andiamo a leggere quali sono gli argomenti scelti dalla città di Salerno Teggiano sindaco sindaci e vescovo per festeggiare i cento anni di Michelina Morena nei giorni scorsi i festeggiamenti per i cento anni di Michelina Morena nata nel maggio del 1917 una cerimonia e i festeggiamenti di cui vi abbiamo parlato nei giorni scorsi anche attraverso il nostro notiziario altra notizia di cui abbiamo dato conto con la città che arriva oggi parlando della morte del camionista viene indagato per omicidio stradale l'altro autore di questo incidente l'omicidio stradale è il reato contestato all'autotrasportatore che ha tamponato il 63enne di Teggiano verifiche estese anche all'ospedale poi ancora Prignano Cilento riapre dopo anni si prega per Francesca dopo anni di chiusure grazie all'amministrazione comunale e a donazioni private riapre la chiesa di San Cosma e Damiano nel cimitero comunale Sala Consilina tir contro un furgone autista ricoverato l'incidente avvenuto ieri sulla Salerno Reggio Calabria all'altezza dello svincolo di Sala in taglio basso Vallo della Lucania legge sui parchi ok agli incentivi approvato l'emendamento proposto dal deputato Iannuzzi infine Pollica l'ASL assegna il medicopediata riattivato il servizio la soddisfazione di Pisani finalmente questa era la pagina di cronaca ora apriamo invece la pagina sportiva partendo dal mattino e dal Napoli Napoli che cerca il secondo posto e va alla volata finale Napoli prendiamoci tutti i record base per il sogno Scudetto Sarri non pensiamo a quello che farà la Roma all'anno qualche problema posso fare anche altre scelte nel reparto le parole del tecnico che questa sera affronterà la Fiorentina formazione tipo con l'unica variante di Zilischi al posto di Alan in mediana intanto su Mertens mi fa piacere che sia arrivato il rinnovo ma adesso penso soltanto alla Fiorentina che ci ha creato problemi queste le parole di Sarri nella conferenza stampa della Vigilia stasera sfida ai Viola mentre i giallorossi alle 18 giocheranno con il Chievo ex azzurri Gabbiadini Napoli sempre meglio pronti a lottare per lo scudetto per quanto riguarda l'Under 15 sfida alla Juve nei quarti finali di playoff andiamo a leggere sempre le pagine sul Napoli Insigne e Bernardeschi show talenti in casa per la Nazionale all'andata al Franchi tutte e due a segno la sfida si rinnova ora al San Paolo Amsic e De Nicola intanto al Motor Show alla vigilia del match con la Fiorentina il capitano azzurro al Motor Show alla mostra d'oltremare insieme al medico sociale Alfonso De Nicola infine le cerimonie Ferlaino con Sarri si può puntare allo scudetto l'edizione 2017 nel nome del grande giornalista l'ex presidente della Napoli tra gli ospiti d'onore del premio Ghirelli in Rai questa era la pagina sportiva dedicata al Napoli ora ci trasferiamo sulla Salernitana Salernitana che ha chiuso la stagione con un appiazzamento molto importante in campionato non ci sono stati i playoff Salernitana che ha perso poi l'ultimo appuntamento in casa del Perugia ma a tenere il banco del futuro Coda fa le prove da Dio lo Tito punta alla presidenza di Serie B e intanto la Salernitana deve attendere in caso di elezione il copatron deve cedere il 50% del club e gli inviati i discorsi con Fabiani e Boldini il bomber intanto posta grazie a tutti intanto quello che è successo nel posto a Vellì e nel posto Perugia una pietra contro il bus notte di paura ride teppistico dopo la partita vetro in frantumi ma nessun calciatore ferito trauma cranico per Mantovani infortunandosi invece durante uno scontro di gioco al Curi infine Overtime c'è una vita oltre il calcio lunedì all'università quarta edizione della manifestazione ideata da Nicola Provenza questa è la pagina dedicata alla Salernitana prima di chiudere il rapido focus anche sul Giro d'Italia che oggi inizia a salire per iniziare quella che sono gli ultimi dieci giorni di avventura di questa centesima edizione intanto ieri seconda tappa in linea la Reggio Emilia tortora e vince ancora il colombiano Gaviria al suo poker al giro imbattibile Gaviria e flop Italia il colombiano esce male dall'ultima curva ma dovida lo sprint Dumoulin resta leader si ritira Thomas nessuna vittoria tricolore dopo 13 tappe ed è la prima volta che accade al giro d'Italia oggi per Nibali la chance del riscatto sul traguardo dove trionfò Marco Pantani un'impresa che gli è valsa l'intitolazione della montagna sulla quale sorge il santuario di Europa dedicato appunto a Marco Pantani dove nel 1999 volò letteralmente partendo da ultimo dopo essere stato fermato da un incidente meccanico e superando come Birilli tutti gli avversari e su questo traguardo quello di Europa che Nibali cercherà l'assalto alla Maglia Rosa bene noi con la pagina sportiva chiudiamo questa edizione della rassegna stampa vi ricordo che news e approfondimenti sono disponibili sul nostro sito web 1tvweb.it mentre l'appuntamento con l'informazione torna alle 13 e 45 io intanto vi ringrazio per l'attenzione e vi auguro buon proseguimento di giornata per l'attenzione per l'attenzione per l'attenzione a